Paola Felice si insegna, torna dal ruolo di opposizione a quello di maggioranza e nel ruolo di assessore, si imbatte già con la festa del corpistone. Sì, infatti, abbiamo già da qualche giorno portato a lavorare, intanto il corpistone, intanto, il corpistone che non è stato deciso da noi, ma nella scorsa consigliata, è una posta di rompere, diciamo, una cosenza di cittadini, stiamo già lavorando da qualche giorno, in cittadini. Ecco, sulla cultura, in maniera specifica, questo comune forse non sembra che nel corso degli anni passati ha dato molte, è un impegno questo e anche con le disponibilità finanziarie? Beh, in effetti la prima cosa che verificheremo è proprio la disponibilità in bilancio per poter programmare il cartello di estivo, quindi il prossimo impegno sarà quello, con una grande attenzione anche a modernizzare tuttora la parte che riguarda i video e i social, purtroppo oggi non consentono la giusta comunicazione di quello che si fa rispetto ai cittadini, perché a volte non ne vengono a conoscere. Possibile anche la delega alle varie opportunità, ma è una cosa che dovete ancora decidere. Quale sarebbe la sua impronta che darebbe a questa delega? Guardi, stiamo ancora ragionando perché probabilmente vorremmo inserirla nel sociale, però ci sono delle valutazioni che stiamo in questo momento ancora definendo e a prendere la scioccolta. Grazie.